Ben trovati ancora una volta su ReTV, io sono Gerardo Paterna e anche oggi abbiamo un ospite importante, abbiamo in studio Alberto Cogliati, direttore commerciale di Engel & Falkers, che intanto ringraziamo per la disponibilità e a cui faremo le consuete tre domande. Ciao Alberto, grazie. Ciao Gerardo, grazie a te e a tutti gli utenti che sono collegati. Benissimo, benissimo. Allora, con Alberto oggi parliamo di mercato del lusso, perché sappiamo che Engel & Falkers è un'organizzazione internazionale che si sta sviluppando con un modello distintivo e poco equivoco in Italia, quindi sta tirando, sta mirando ad un mercato immobiliare medio-alto. Per cui parliamo di lusso, parliamo di pregio e quindi che dimensioni ha intanto il mercato degli stranieri che acquistano in Italia e se riesce a farci così l'identikit del cliente tipo? Il mercato degli stranieri in Italia ormai è qualche anno che è fermo circa sulle 6.000 unità, quindi 6.000 clienti stranieri che comprano in Italia per investimento oppure nelle località di vacanza, quindi mercato prettamente della seconda casa. L'identikit sono clienti abbienti, sono clienti che non hanno subito la congiuntura nostra o quella europea, sono clienti che provengono soprattutto dal nord Europa, perché nel nostro caso la maggior parte dei clienti che comprano nelle località più prestigiose, dove noi siamo presenti o nelle città d'arte proviene da Germania, Svizzera, Austria, Belgio, Regno Unito, dove noi siamo capillarmente sul territorio e dove evidentemente le barriere all'ingresso sono abbattute perché conoscendo all'interno dei loro territori le attività di Engel & Falkers possono rivedere la stessa organizzazione, la stessa struttura e soprattutto lo stesso metodo lavorativo anche con gli agenti immobiliari italiani. Quindi c'è una riconoscibilità di brand che favorisce l'accesso all'Italia da parte di una determinata tipologia di clientela, che io so che adoro i dati medi anche se sono sempre scorretti, le medie sono sempre discutibili, ma quanto spendono i media? Se facciamo una media sul territorio nazionale siamo ben oltre al milione di euro come media nazionale, però anche qui è difficile fare medie nazionali su tutti i vari territori, perché all'interno dello stesso territorio ci sono tessuti, geografie, culture, prezzi completamente diversi l'uno dall'altro. Io ti posso fare degli esempi, i prezzi, le proprietà più importanti e più costose che sono state transate lo scorso anno sono state a Desenzano del Garda per un importo di 3 milioni di euro, a Cernobbio con un importo di 6 milioni di euro e soprattutto a Porto Cervo con una proprietà venduta a 8 milioni di euro. Chi ha comprato? Un cittadino della Repubblica cieca di Praga, è entrato all'interno del nostro ufficio di Praga, ha chiesto di comprare casa, una proprietà importante in Sardegna, al nord della Sardegna, noi nel nord della Sardegna abbiamo la nostra partner Daniela Ciboddo che ci rappresenta benissimo, è stata contattata direttamente dai colleghi di Praga, il cliente ha visitato alcuni immobili che Daniela stava proponendo e stava commercializzando, uno di questi l'ha acquistato proprio lui, 8 milioni di euro. E avviene, in tutti e tre i casi Gerardo, in tutti e tre i casi sono tutti e tre stranieri, guarda caso, tutti e tre stranieri, tutti e tre provenienti dal nord Europa, in questo caso la Repubblica cieca, negli altri due casi, uno dalla Germania e uno dalla Svizzera, rispettivamente su Desenzano e su Cernobbio, ma che già conoscevano il nostro marchio perché all'interno del loro tessuto locale è presente l'ufficio Ingrid Folk. Quindi stai dicendo che nei vostri shop la media, la percentuale di clienti stranieri è molto alta, pur operando in Italia avete shop che, voglio dire, i cui clienti acquirenti sono anche il 70-80%. Sì, allora, per precisione assoluta, a Venezia nel 2015 il 61% delle compravendite fatte dallo shop di Venezia sono state effettuate da clientela straniera, sul Lago Maggiore il 75% dell'interattività è stata fatta da clientela straniera, a Cernobbio arriviamo al 77%, ma il dato più cratante è quello sempre di Porto Cervo. L'anno scorso tutta l'attività di vendita all'interno dello shop di Porto Cervo è stata fatta solo e disclusivamente con clientela straniera, nessun cliente italiano ha comprato all'interno dello shop nostro, ma solo clientela estera. È un dato molto interessante. Allora, senti, quali sono le caratteristiche, secondo la tua esperienza, che un agente immobiliare dovrebbe avere per riuscire a posizionarsi in questo particolare segmento di mercato? Secondo me tutti gli agenti immobiliari oggi in Italia vorrebbero aggredire e penetrare questa quota di mercato. Perché pensano che sia pesca facilitata, come il laghetto delle trote. Pensano che sia semplice, invece è la parte probabilmente più complessa, più difficile, più astrusa, dove andare a contattare, a stuzzicare, incoraggiare, anche a trovare un cliente venditore, un cliente acquerente, non è così semplice. Prima di tutto bisogna avere grandissime competenze e grandissima tecnicità. So che sono termini usati, anzi forse anche abusati, ma non si può prescindere da queste attività per svolgere la professione di agente immobiliare in questo tipo di mercato. Quindi possiamo dire, allora, una buona cultura generale. La conoscenza di almeno una lingua straniera, in modo fluente, per poter entrare in una conversazione che sia, insomma, adeguata. E poi bisogna avere tre armi fondamentali, che sono quelle che noi proponiamo quotidianamente ai nostri partner e anche ai potenziali futuri tali, che sono il marchio, il network e i servizi. Il marchio Gerardo perché serve come… il marchio è riconoscibilità, ma è anche un senso di appartenenza da parte degli affiliati, perché c'è un confronto ed un conseguente miglioramento. Ma il marchio serve soprattutto al cliente venditore, al cliente acquirente, perché solo in questo modo si riescono ad abbattere le barriere di ingresso e le diffidenze. Se non conosco il marchio o non conosco l'agente immobiliare, come faccio ad abbattere le mie diffidenze e le mie barriere di ingresso. Quindi c'è un brand noto, a riconoscibilità. Esatto, un brand riconosciuto in tutto il mondo, soprattutto dove la maggior parte dei clienti stranieri intende acquistare in Italia, quindi lì siamo presenti e il marchio è, secondo il mio punto di vista, l'asset più importante della nostra azienda perché senza il marchio, senza il prestigio, senza la reputazione di questo marchio farebbero fatica anche i nostri bravissimi agenti immobiliari a performare. Il secondo asset è sicuramente il network, ma perché questo è un mercato che non può prescindere ad un'attività domestica, ad un mercato domestico. È un mercato che deve aprire la clientela internazionale, ma se non ci sei fisicamente sulla clientela internazionale e su quei mercati lì, fai fatica ad essere credibile. Quindi il network che funziona anche come mere segnalazioni, perché la maggior parte dei clienti esteri che hanno comperato in Italia hanno comperato grazie alla segnalazione del collega europeo di Praga, di Berlino, di Londra, di New York, piuttosto che funziona questo tipo di collaborazione. Basta una telefonata ed una mail con un cliente venditore, un cliente acquirente e si può fare un'attività di collaborazione che non è gestita e organizzata dai nostri partner, ma che è all'interno organizzata e strutturata attraverso una policy aziendale. Per ultimo i servizi. I servizi sono importantissimi, certo i servizi di comunicazione e marketing sono importanti, sia online che offline. Ma il fatto di vendere oggi un immobile in Italia con una visibilità in 700 shop sparsi in 37 paesi del mondo avrà una valenza in più, ma soprattutto è il metodo, perché noi all'interno dei nostri uffici insegniamo un metodo, che non è un metodo artigianale o fantasioso, è un metodo che se seguito pedissequamente può portare a determinati risultati. Perché è un metodo? Perché all'interno dei nostri shop il chi fa che cosa e i ruoli non sono stabiliti a caso, ma secondo appunto una metodologia che in Italia è stata replicata perché i progetti fuori dall'Italia stanno funzionando ormai da decenni. Chiaro, chiaro. Parliamo di shop prima, so che siete costantemente, anzi, che il 2016 è un po' l'anno del reclutamento, state cercando agenti immobiliari? Vero. Quindi se vuoi fare un appello, guarda, guarda in camera e ci racconti chi stai cercando? E' vero, è vero, nel senso che noi nel 2016 solo per le nostre agenzie in franchising stiamo cercando oltre 300 agenti immobiliari, quindi 300 giovani ragazzi ma anche 300 agenti immobiliari già affermati che se hanno voglia di aggredire questo tipo di mercato, se vogliono penetrare questo tipo di mercato che abbiamo visto e lo si può leggere su tutti i giornali che non è così stato in congiuntura come il mercato medio-basso, noi stiamo obbligatoriamente cercando questo tipo di figure su tutto il territorio nazionale perché l'anno scorso sono stati sottoscritti 14 contratti ma quest'anno noi dobbiamo sottoscrivere altrettanti, dobbiamo tenere in considerazione Gerardo che noi stiamo andando bene ma potremmo andare meglio solo e disclusivamente con un reclutamento di molti agenti immobiliari scelti perché devono avere determinate caratteristiche e determinate competenze ma con un metodo formativo nostro, quindi prendiamo queste persone che vengono formate e devono seguire questo metodo perché questo metodo all'interno di questo mercato funziona, altri metodi no, quindi è un metodo proprio specifico che funziona per il 10% di questo mercato che è il nostro 10%. Hai detto che come azienda andate bene, hai qualche dato di fatturato da condividere? Sì, te lo dico con grande soddisfazione perché il 2015 è stato un anno record sia per Engel & Folkers perché sono aumentati i ricavi globali netti da commissioni di oltre 100 milioni perché siamo passati dal 2014 dove si era registrato 300.3 milioni di Euro, il 2015 siamo arrivati a 400.8 milioni di Euro quindi questi oltre 100 milioni sono da inserire su questa riga, in particolare l'Italia ha avuto una crescita di oltre il 106% perché nel 2014 avevamo fatturato meno di 5 milioni, nel 2015 siamo arrivati a fatturare quasi 10 milioni tenendo in considerazione che noi sul territorio nazionale abbiamo 49 contratti sottoscritti ma con 35 shop operativi, però Gerardo di questi 50 contratti sottoscritti 40 degli stessi sono stati firmati negli ultimi 3 anni quindi nel 2013, 14 e 15, 30 di questi 50 contratti sono stati firmati nel 2014, nel 2015 quindi nell'arco dei 24 mesi e questi numeri sono straordinari perché tutti questi contratti fatti in questi ultimi 2 anni sono contratti in alcuni casi senza shop perché sono ancora alla ricerca degli shop perché non sono operativi, in qualche caso stanno facendo la start up e solo in rarissimi casi hanno già raggiunto il break even che solitamente noi lo diamo dopo il 24esimo mese per quello che sono dati straordinari, domani potrebbero essere dei dati da case history. Anche perché sul piano economico un inciso che da fare è che voi comunque percepite delle royalty commisurate al fatturato dei singoli shop, di conseguenza se tu mi dici 10 milioni di euro immagino che quindi anche gli shop hanno prodotto quindi un sistema di fatto che funziona, un sistema produttivo e che dà soddisfazione non soltanto all'affiliato che apre lo shop ma sicuramente dà prospettive anche agli agenti immobiliari che vi lavorano all'interno. E' proprio lì il punto, il punto nodale è proprio quello perché noi stiamo andando bene perché i nostri partner stanno andando bene e sul mercato siamo visibili, siamo credibili, siamo presenti e laddove non siamo presenti quest'anno andremo a colmare queste assenze perché noi non siamo ancora presenti dovunque, però è la verità, gli agenti immobiliari che oggi non performano nelle loro agenzie chissà perché da noi riescono a performare, quindi significa che funziona il metodo, funzionano le agenzie, noi incassiamo come dicevi tu delle royalties in relazione neanche al fatturato ma all'incassato e quindi vuol dire che noi stiamo andando molto bene e in un merito è la pena detti, ma perché stanno andando bene loro, loro stanno andando bene ma perché non seguono solo le case, seguono soprattutto le persone perché il modello è fatto per seguire le persone, non per forza le case, per quello che all'interno delle nostre agenzie immobiliari stiamo cercando dei bravi agenti immobiliari o dei bravi consulenti che possono performare loro, accontentare il nostro partner e di conseguenza anche Engel & Falkers Italia. Bene, allora l'agente immobiliare che vuole contattarvi cosa fa? Sito istituzionale? Esattamente, di Engel & Falkers Italia, www.engelandfalkers.com, quindi ci può trovare all'interno dei social o all'interno dei nostri siti, basta digitare Engel & Falkers e ci può contattare o noi o direttamente gli shop che ci sono sul territorio se una persona o un candidato vuole arrivare direttamente sul proprio tessuto locale. Benissimo, allora Alberto, grazie mille per essere intervenuto, ti aspettiamo magari per un'altra occasione con novità, così ci racconterai come sta andando poi il 2016 anche per voi. Vi ringraziamo, vi ringrazio per continuare a seguirci con pazienza, speriamo che anche questa confido e che anche questa intervista possa lasciarvi dati, informazioni interessanti. Ci vediamo alla prossima occasione con un altro ospite, a presto. Grazie a te Gerardo, a presto.